Abbandonare è sempre una resa, una sconfitta. Di sicuro non è il modo migliore per contribuire ad affrontare i problemi, soprattutto in politica, dove il confronto, la condivisione e il dialogo sono fondamentali per qualsiasi programmazione ed azione. Così il sindaco di Licata, Angelo Graci, spiega la decisione dell'Udc di uscire dalla Giunta. Graci rompe il silenzio e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Nel maggio di quest'anno, scrive Graci, constatati i numerosi problemi che affliggono queste città e le criticità esistenti nei diversi settori, il sindaco Angelo Graci, eletto nelle ultime elezioni amministrative del giugno 2008 con diverse liste civiche, ha operato un'apertura per il governo della città a tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Comunale, affinché, in un'ottica di vera democrazia e pluralismo politico, ciascuno potesse contribuire effettivamente alla risoluzione delle diverse problematiche nel pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico. A distanza di cinque mesi dall'ingresso nel gruppo di maggioranza dell'Udc, ha ritenuto di abbandonare il governo attivo della città, motivando sul fatto che non si è proceduto, come più volte richiesto, alla riorganizzazione della struttura burocratico-amministrativa per consegnare alla città dipartimenti più efficienti e funzionali al soddisfacimento dei bisogni. Governare una città non è cosa facile, tantomeno una città come Licata. I problemi da affrontare e da risolvere quotidianamente sono tanti e le risorse per farvi fronte sono sempre più esigue. Si condanna la scelta operata dal gruppo politico dell'Udc di uscire dalla maggioranza scelta né concordata né condivisa, compiuta senza una preventiva informazione. Programmare per amministrare significa anche conoscere bene lo stato di partenza dell'ente e le sue problematiche per poter calibrare le proposte e dare la giusta priorità ai piani di azione. La condivisione politica delle responsabilità, quanto più è diffusa, tanto è più efficace, ma è necessario definire alleanze politiche chiare, capaci di garantire la stabilità dei governi, bene fondamentale per la cittadinanza.